Per la seconda settimana consecutiva tende a salire leggermente l'RT a livello nazionale e si fissa intorno a 0,9. L'incidenza di nuovi casi di Covid-19 nel nostro Paese scende leggermente ma è ancora molto elevata, soprattutto in alcune aree del Paese. Purtroppo il tasso di occupazione dei posti dell'Arabia Intensiva è ancora al di sopra della soglia critica. Per questi motivi è bene continuare a mantenere dei comportamenti prudenti, soprattutto in questo periodo di festività e nelle aree del Paese maggiormente colpite si può considerare l'opportunità di misure maggiormente restrittive. Grazie a tutti!